Contrario La legge di Murphy La legge di Murphy non significa che succederà una cosa brutta Ma che tutto quello che può accadere, accadrà Per fare quello che faccio Per avere un'idea della minaccia Dobbiamo affrontare la mia vita Non ci dico A chi ti servono? Asi che segnalate Ma che taglia Non si Non si Adorative Aggi è in gioco la sopravvivenza mi sembra audace audace va bene, credevo dicesse folle qui i nostri mondi si scontrano che è successo qui? non è ancora successo con l'inversione del flusso del tempo non significa che non è successo cosa pensi che siano? detriti di una guerra imminente ecco questa è la parte un po' drammatica ecco qua, ciao Lele, ciao ragazzi questa è la parte un po' drammatica hai visto che ho scritto? ho scritto, non ho scritto io perché è di Kavitz questo genio delle vignette non mi interessa essere il migliore non mi piacciono i limiti si poi fra l'altro c'è tutta una letteratura sul fatto che migliore non esiste poi in realtà lo sai molto bene perché studiamo dei marketer che piacciono ad entrambi e in un libro si dice che non bisogna essere migliori bisogna essere diversi e invece in realtà romano il parrucchiere pro insegno che devi essere prima diverso e poi migliore perché ormai il posizionamento la differenza di cui tanti parlano spesso a sproposito sta prendendo forme nuove prima si faceva tutto il tutto per tutti e allora andava tutto bene allora cominciai a dirgli no bisogna posizionarsi adesso tutti parlano del posizionarsi ma la maggioranza non ha capito che il posizionamento rispetto a tre anni fa è già cambiato da così a così e quindi è una battaglia incredibile incredibile bellissima questa scelta delle vignette come al solito va bene sai poi molti confondono il posizionamento con la specializzazione anche lì mi dovrebbe farci un corso facci un corso rubati due ore eh sì esatto ma tu ti rendi conto il livello di entusiasmo che ho stasera primo perché ci vediamo una volta al mese quindi per me è una festa essere qui con te secondo perché domenica lunedì e martedì io sono in aula romano cioè non so cosa dire in aula con 150 pazzoi di 150 nuovi parrucchieri pro e non vedo l'ora e ovviamente è uno degli argomenti proprio la differenza tra posizionamento e specializzazione ti dirò di più lo faccio volentieri questa sera per tutti coloro che seguono parrucchierando io ho ricostruito anche grazie a un'ispirazione che mi è arrivata da Raffaele Sias ho ricostruito un po' il concetto di differenza che è sempre stato il concetto su quale ho puntato e la differenza io la sviluppo lavorando su posizionamento specializzazione e clientela ideale quindi di fatto vado a proporre il concetto di differenza come la casa del posizionamento e ovviamente cambiano come puoi ben immaginare tutti i parametri là fuori confondono il posizionamento con la specializzazione e ne vedi di ogni ne vedi di ogni ragazzi per non confondere tenete presente che qualsiasi post che fate deve sempre fare riferimento al vostro posizionamento quindi potete mettere benissimo un post definito colori a tutta birra io sono il numero uno però deve essere riferito al vostro posizionamento una cosa e l'altra sono due cose diverse va bene però come ti è venuta l'idea di questo argomento che appena me l'hai detto sono saltato per aria no vabbè questo argomento perché ho visto ho visto delle cose in settimana che vuoi umane se volete fare marketing di valore ragazzi dovete dargli anche un'apparenza di valore quindi l'ho scritta come al solito hanno capito chi ha capito cioè questo perché uno dice fare marketing contenuti di valore quello che vuoi non è soltanto il contenuto ma è anche come lo presenti è un po' come faccio una metafora a un grande cuoco cioè sarà anche buono se però fa schifo a vedersi no non funziona è la stessa cosa il famoso impiattamento impiattamento ecco voi dovete fare l'impiattamento bello questo gancio l'impiattamento per quanto riguarda i post ma dal post a qualsiasi cosa che esce dal vostro salone che presentate alla vostra clientela perché il segreto come ho detto anche martedì non sono parole mie sono parole di Jay Abram è innamorarsi dei clienti Jay Abram uno dei massimi esponenti del marketing in America arrivonti là ragazzi no beh un bel cinema sai vai a viaggiare contro 500.000 passa parrucchieri contro i 100.000 che abbiamo noi è un mondo completamente diverso un mondo in cui l'affitto alla poltrona funziona un mondo in cui un parrucchiere su due è un imprenditore non un artigiano quindi lasciamo perdere ovviamente non stiamo parlando contro gli artigiani semplicemente in Italia io ho fatto una scaletta dove ho detto l'artigiano deve continuare a esserlo deve diventare artista ed è l'argomento della serata e deve diventare imprenditore perché perché adesso in un mondo che va incontro fra pochi mesi quello che doveva succedere quello che sarebbe successo se non arrivava il covid ovvero il fatto che la guardia di finanza avrebbe fatto una battaglia sconsiderata al nero obbliga il parrucchiere e non solo lui ma noi siamo specializzati nelle remiuti obbliga il parrucchiere a creare un modello di business che esca dalla logica del nero perché ricordiamocelo ragazzi che il nero è un modello di business ovviamente è un modello di business fuori legge e sbagliato però per decenni hanno fatto le loro fortune potendolo fare adesso diventa impossibile farlo quindi devi assolutamente imparare e qui quando tu mi parli di apparenza a me che io ho scritto che l'apparenza rende visibile la sostanza a me che ho scritto che a parità di talento vinci chi lo comunica meglio tu stasera mi hai invitato veramente a nozze a nozze a nozze esatto t'ho ingolosito oggi fu benissimo vada metto questo ti piace quindi va bene così e quindi appunto parlavo di un po' di queste cose anche con i miei tanto ho parlato anche del rapporto cliente soldi cioè il fatto di parlare con i vostri collaboratori e spiegargli che loro in questo caso sono non i clienti o l'altra cosa perché si parlava di flusso del denaro siccome voi li pagate i clienti siete voi che siete il datore di lavoro e dovete fare percepire a loro questa cosa se loro percepiscono che voi siete i clienti loro dovrebbero fare di tutto per accontentarvi senza schiavizzarli no? questo era un po' il tema della cosa e da lì perché? perché se tu ti innamori del cliente dai sempre di più di più di più per farlo felice in tutti i modi tutte queste cose qua ti torneranno indietro sottotitoli perché Lele vi dà il braccialetto vi coccola il suo materiale è bellissimo pattinato quando arrivate nei suoi eventi c'è un'esperienza c'è l'accoglienza vi tiene la valigia vi fa registrare cioè crea una storia no? cioè per lui quei soldi lì se li potrebbe tenere invece perché non ti ritieni quei soldi? guarda ci sono due cose una è mostruosa perché ovviamente vabbè chi ci segue un po' sa che odiamo l'ipocrisia quindi siamo in buone mani per gli altri ci arriveranno col tempo io posso capire che magari all'inizio uno dica chissà se dicono la verità ora voi pensate che Romano non sa ma non sa che succede una cosa domenica chi arriverà a fare parrucchiere pro non troverà il solito notes non troverà solo il quaderno e troverà qualcos'altro cioè proprio quello che hai detto tu Romano perché io me la cavo con un notes da x euro io vi dico solo i post-it solo i post-it che serviranno per fare determinate cose no non è il business model canvas ovviamente solo i post-it a noi costano due euro l'uno considera che ne dai un paio ad ogni partecipante però ti dico arriverà una scatola con un volume per ogni giorno questo per darti un'idea proprio perché vai nella direzione che dici tu e il parrucchiere oggi io sono quello che ha inventato il kit arrivederci tenete presente che io quando ho fatto quando ero con quella che io definisco ancora oggi la mia mamma professionale io ero quello della busta quello che ha inventato il kit arrivederci non c'era nessuno che facesse cose del genere e attenzione io avevo un'azienda da sguinzagliare perché io lavoravo per Intercosmo che non era ancora sotto legida di Revlon anzi Intercosmo e Revlon erano due divisioni che si facevano a battaglia e io quindi ho avuto la possibilità di beneficiare di tutta una serie di ricerche di tutti i materiali del marketing c'era una stanza di materiali delle aziende io ho controllato non c'era nessuno che facesse quello che abbiamo fatto noi sono stato il primo purtroppo questo denota che sono vecchio perché sono 25 anni che mi sopportate e ho fatto il kit a rivederci e Romano era una busta una busta in cui all'interno mettevi determinate cose ovviamente non vado a spoilerarle lo insegno martedì ma adesso questo è lo spoiler volentieri non è più soltanto dare una busta è dare una scatola dare una scatolina una scatolina fatta bene con un fiocco che il cliente rimane lì che gli cade il mento e dice cavoli ed è la prima volta che vengo quindi costruisci subito sul pulito un modo di ragionare con il cliente e gli fai subito notare quanto conta perché dalla qualità di una mantella di una mascherina di un guanto di un quel che vi pare dalla qualità della musica che si sente nel salone dalla qualità delle pareti dalla qualità del bagno e della carta igienica che scegliete dovunque voi vi giriate voi state costruendo o demolendo la vostra autorevolezza e qui siamo ancora noi abbiamo 129 stasera ma siamo ancora ragazzi a lottare con decine di vostri colleghi che questa cosa non l'hanno ancora capita e pensano di risparmiare sul kimono abbiamo ancora i parrucchiere che stira le cartine o che le ricicla io non ho più non ho più parole da dire ragazzi e non ci rendiamo conto che il cliente lo percepisce non te lo dice ma dice qui mai più molto semplice no guarda hai detto una realtà quindi dovete creare esperienze uniche di valore vendi cose che aiutano a risolvere i problemi delle persone a renderle più giovani infiocchettale bene dagli ancora più emozione costruisci solide relazioni con i clienti perché queste cose qua costruiscono solide relazioni e perché perché più fai migliore è il servizio che dai migliore sarà il risultato semplicemente e quindi la scelta migliore sarai tu e tutto questo ti tornerà indietro perché fuori non ci sarà nessuno che farà queste cose come le fai tu e quindi di default dove vado a mangiare dove mangio meglio dove si presenta meglio dove c'è un ambiente più pulito dove sono di fianco dove c'è la persona profumata che arriva a dirmi cosa voglio dove non attendo dove dove tutte tante piccole cose che creeranno un'esperienza migliore e di default sarai la scelta migliore e le persone arriveranno premiandoti con i soldi noi abbiamo finito è già una lezione e ci andiamo incartare e fare e ovviamente poi dicono sì dite sempre le stesse cose poi va a vedere cosa fanno e poi magari vediamo delle immagini e ci facciamo quattro risate cioè io ti faccio un esempio che prima tu hai coinvolto anche i collaboratori li saluto tutti perché dal mio punto di vista delle volte dovremmo veramente ogni tanto dedicare un po' di spazio perché sta diventando attenzione perché vi dirò una cosa che mi sembra strana sta diventando difficile essere collaboratori bravi perché questa società vi vuole mediocre quindi il collaboratore ogni tanto va a casa trova non sempre trova dei fenomeni trova delle volte delle persone non all'altezza delle persone che hanno preso la parte mediocre della vita e quindi sono quelli che si accontentano di fare una piega a nero tra un orario e l'altro o di fare altre cose così e non si rendono conto che essere collaboratori top oggi può voler dire o essere pagati top domani o essere titolari top di domani se non sei un bravo collaboratore non sarai mai un bravo titolare piantatelo nel cervello ma io non voglio diventare titolare bene se vuoi essere pagato più degli altri collaboratori devi essere collaboratore migliore non vieni valutato per l'impegno vieni valutato per i risultati che produci il risultato è figlio di due cose uno quello che sai e uno è quello che pensi quindi è tutto lì ora è chiaro che questo vale anche per i titolari ma ho voluto parlare dei collaboratori Romano perché ti faccio un esempio stupido noi abbiamo la macchina professionale del caffè di Nespresso abbiamo fatto il contratto aziendale scegliamo i gusti abbiamo creato uno spazio per i nostri collaboratori adesso allestiamo una parte nuova di uffici iniziano i lavori martedì prossimo se ricordo bene martedì prossimo inizia l'impresa e quindi allestiamo l'ufficio tutto sul piano facciamo quattro spazi nuovi perché non ci stiamo più dentro ebbene io ti dico una delle persone che lavora con me mi ha detto noi nel posto dove eravamo e ti parlo di un commercialista con tante persone dentro noi nel posto dove eravamo il caffè ce lo compravamo per me da noi c'è il boccione dell'acqua c'è le ci sono i cioccolatini ci sono i biscotti c'è il frigo c'è il forno a microonde c'è il caffè Nespresso Nespresso non vado a prendere quella al supermercato la carta igienica è quella che uso io sembra una cosa stupida invece è un messaggio forte se uno lo vuole cogliere per me i clienti è uguale quando noi abbiamo fatto la scatola delle delle v-box abbiamo scelto la start box delle v-box non abbiamo guardato lo stesso per una penna c'è una penna deve scrivere non deve rompersi appena la apri perché hai risparmiato 20 centesimi perché stai dicendo al cliente quando la penna si rompe stai dicendo al cliente questo è il valore che ti do e non lo capiscono quando hai un kimono che si strappa perché l'hai pagato 20 centesimi di meno ma qui siamo siamo all'assurdo siamo all'assurdo Romano cioè qui siamo a gente che dice che i clienti non vogliono comprare lo shampoo perché da noi costa troppo che sono stronzate galattiche e poi vai a vedere vai a vedere e gli propongono lo shampoo del tanicone al lavatesta cioè uno shampoo non dico di merda perché ci mancherebbe altro poi dopo mi dite che sono volgare quindi shampoo di merda che è meglio che shampoo di merda quindi uno shampoo di merda per risparmiare 10-15 centesimi al lavaggio e perdi un cliente perché non gli puoi dire che buono sto profumo guarda è lo stesso shampoo che abbiamo alla cassa se ti piace puoi dare continuità al tuo trattamento anche a casa noi no noi per risparmiare 15 centesimi perdiamo 5 euro cioè questa è e poi si incavolano perché io mi incavolo e quello che io dico quando tu parli di amore quando G. Abram dice la santa verità cavolo io sono 25 anni dopo 20 mi sono dopo 5 scusate mi sono innamorato follemente ma la realtà è proprio quella e poi senti la retorica di chi ti dice no ma lei le bisogna risparmiare no sul cliente devi fargli vedere che il cliente ti interessa c'è una frase e ti ripasso la parola c'è una frase che ho scritto poche settimane fa pochi mesi fa e che secondo me è emblematica nessun imprenditore può permettersi il lusso di ragionare da povero che non vuol dire sciallare i soldi a destra a sinistra buttare le banconote da 50 euro sul tombino vuol dire capire come vi ha detto benissimo Romano in apertura che dovete far vivere un'esperienza straordinaria al cliente che vi sceglie e l'esperienza straordinaria non è fatta soltanto di quel massaggio speciale di quel taglio particolare ma è fatta di un insieme di tanti piccoli dettagli che fanno un'enorme differenza allora hai detto benissimo soprattutto quella dello shampoo poi basterebbe così poco anche perché tutte le aziende hanno sempre al listino dello stesso shampoo la versione da un litro e quella piccolina prendi quella piccolina se proprio ci tenete travasate quello giusto o non quello del supermercato e fate vedere guarda te lo sto mettendo sente il profumo 90 su 100 te lo compra poi dopo però vabbè queste sono sottolineate il problema è che se voi non fate tutte queste cose in salone cioè rendere migliori l'esperienza ai vostri collaboratori come pensate che loro poi facciano questa cosa verso i voli clienti se voi per primi non ci credete e non lo fate come è possibile che un collaboratore poi si spacchi in quattro per voi perché dice vabbè tanto va al risparmio lui cioè vado al risparmio anch'io io ci ho fatto una riunione con i miei su questa cosa qua del discorso andatevi a vedere la puntata di ieri di martedì che ho fatto che dicevo che dovete far capire al vostro staff il concetto di rapporto che avete con loro ragazzi cioè il cliente è il datore di lavoro gli spiegavo la persona che paga per usufruire un servizio ok questo è fondamentale se la loro stessa la vostra filosofia è uguale alla loro andate tutti dalla parte giusta no cioè questa è la cosa e quindi loro dovrebbero rendere fantastica la vostra esperienza con loro non perché li pagate ma perché ci tengono a stare con voi perché voi tenete ai clienti come loro tengono a voi cioè se voi per primi fate vedere che ai clienti non ve ne frega niente e vi interessa soltanto i soldi o comunque fare quel tipo di lavoro in automatico si perde tutta questa filosofia del salone non c'entrano i soldi ecco ragazzi qui si parla di sposare un obiettivo comune questo è fondamentale devi dare l'obiettivo aziendale per far sì che ai clienti devono vivere la miglior esperienza possibile nel tuo salone possibile non vuol dire che dovete buttare i soldi dalla finestra possibile e quando dite questa cosa qua io che la dico adesso lei l'ha letta ancora prima di me io questa cosa qua nel gruppo nel più piccolo gruppo che ho di Procure and on demand cerco di fare questa roba qua perché chi fa i corsi abbiamo fatto un corso con Ivan Bucci gli ho fatto arrivare un diploma Lele era grande c'è un po' con schermo c'era un 20-30 con dietro tutta una frase emozionale ringraziandoli personalmente e gli è arrivato lì con il loro marchio con il loro nome scritto a mano eccetera eccetera gli abbiamo mandato le teste continuiamo a spendere soldi per dirgli grazie che ti sei affidato a noi che hai fatto questo corso che hai vissuto un'esperienza che spero per te che sia stata bella perché l'informazione è quella che è cioè nel senso che probabilmente lo stesso corso in un modo o nell'altro di riffa di graffa la puoi trovare su YouTube o più o meno quello lì non lo trovavano però comunque qualcosa puoi trovare ci sono in giro anche i materiali di Lele magari di un paio d'anni fa uno può cercare di prendere quelli ma volete mettere essere lì in sala seguire il percorso e vedere avere l'emozione come guardare la partita alla televisione e andare allo stadio non potete non può essere la stessa cosa è un'altra cosa proprio è proprio un'altra cosa se poi quando vado allo stadio c'è anche è tutta un'esperienza allora cambia tutto c'è in Italia andiamo a vedere le partite di basket vai lì ti rompi le palle fino a quando a meno che non c'è il gesto atletico la partita punto a punto vai in America in America la partita in 54 minuti dura tre ore e mezza ci sono gli spettacoli e c'è gli acrobati e poi c'è il refill della coca e poi c'è di tutto stadio pieno da noi stadi vuoti ci sono le pubblicità delle tintorie ma a Milano non delle squadre di serie C la squadra che gioca in serie A date a Milano c'è la tintoria e la presa Armani come sponsor ragazzi questo sono i dati tutti fatti certo che se anche noi ve lo diciamo e poi non lo mettiamo in pratica dove cavolo vogliamo andare Lele è una battaglia è una battaglia perché quando dico essere grandi nelle piccole cose poi viene fuori il finimondo perché ovviamente le persone cominciano Davide a me non è arrivato Davide arriverà perché vedo che a qualcuno è arrivato è stato spedito come si chiama lunedì o venerdì tempo tecnico Fabiola è arrivato oggi fantastico meno male che c'è qualcuno che dice che è arrivato non parlo non parlo di Davide perché non è magari il caso di Davide io la cosa che è incredibile che oggi noi abbiamo abbiamo mandato un pacco ad un cliente e il cliente l'ha ricevuto firmato c'è la sua firma e tutto quanto e quando si è telefonato ha detto che non l'ha ancora ricevuto Davide dice scherzo infatti tu uccido ragazzi per evitare quella cosa lì costa 10 euro perché ve lo dico io mi potevo tenere 10 euro per 40 sono 400 euro non è che sono 3 euro 400 euro io uscivo no stasera non posso uscire perché c'è il lockdown però qualcosa 400 euro qualcosa me li facevo secondo voi preferisco tenermi in tasca mia o darli a voi vi assicuro che preferisco darli a voi per far vivere un'emozione perché così lo potete raccontare in giro e magari arrivano altre persone questo è il concetto diamo subito una regola che può essere estremamente utile e che deve far riflettere in tanti la cosa che noi dobbiamo capire è che l'unità di misura per quanto riguarda ovviamente l'andamento di un'attività sono i risultati e spesso e volentieri i risultati si ottengono attraverso la nostra autorevolezza l'autorevolezza è quella che dobbiamo costruire facendo alla grande le piccole cose quando Romano vi propone di ragionare sul vostro apparire sulla vostra apparenza vuol dire che vi chiede di ragionare 1. sull'immagine esterna del salone 2. sull'immagine interna del salone 3. sull'ordine della cassa 4. sul modo in cui accogliete e gestite la clientela 5. sul modo in cui la fate attendere e le create i presupposti affinché l'attesa sia minima possibile e comunque gestita alla grande 6. il modo in cui li gestite alla poltrona e dialogate con loro 7. il modo in cui consigliate 8. il modo in cui gli fate pagare il conto 9. attraverso l'atmosfera che è creata all'interno del salone 10. quello che fate attraverso il web e le vostre immagini l'autorevolezza ragazzi non si può dire è tutto perché è ridicolo di una cosa del genere ma voi per ogni cosa che decidete di fare per ogni cosa che decidete di fare per ogni cosa che decidete di fare voi dovete pensare alla componente autorevolezza vale a dire quello che sto facendo che sia porgere una tazzina di caffè che sia lasciate perdere il covid non parliamo sempre di sto covid perché mi avete rotto le balle che sia una tazzina di caffè che sia un cioccolatino che sia una piccola coccola che sia la poltrona in cui ci si siede adesso vi dirò una cosa che è importante ebbene qualunque cosa qualunque cosa voi facciate voi dovete sempre chiedere è all'altezza mi sta dando autorevolezza o mi sta togliendo autorevolezza ogni volta che voi prendete quel kimono in mano e lo vedete che si spezza a guardarlo voi state pensando la vostra autorevolezza va giù non potete permetterne l'autorevolezza è un troppo pieno che cosa succede voi volete dei risultati ma i risultati non sono mai superiore alla vostra autorevolezza quindi se volete aumentare il listino se volete meritarvi dei clienti che sono pronti a investire da voi dovete pensare che l'autorevolezza lo blocca l'autorevolezza è bassa il vostro listino è basso sale l'autorevolezza sale tutto il resto quindi se voi lavorate sulla vostra autorevolezza voi avete vinto l'apparenza rende visibile la sostanza poi fate bene i capelli ci mancherebbe quando diciamo a parità di talento vince chi lo comunica meglio vuol dire che il talento ci deve essere però ragazzi per favore non mi sottovalutate l'apparenza perché voi vivete di quella ricordatevi che voi non fate capelli perché la gente ce li ha fuori posto voi fate degli chatouche della madonna perché la gente investe sulla propria immagine quindi se non cos'è la loro immagine se non apparire quindi investite sull'apparenza vostra nei loro confronti Romano prima di ripassarti la parola lo sai quante battaglie io ti dico cosa ho fatto una volta a Pesaro me lo ricordo come fosse adesso li vedevo un po' freddini li vedevo un pochettino con sufficienza a un certo punto gli ho detto ok ragazzi io spero che ho riusciato a fare questo esercizio so che sarà difficile gli chiedo di fare prima una cosa verso destra e poi verso sinistra gli ho fatto ovviamente girare il collo prima di qua e poi di là glielo ho fatto fare ho fatto in modo che lo facessero tutti un paio si erano anche incazzati perché ho insistito ho detto quando lo farete tutti finiamo l'hanno fatto tutti poi ho detto adesso ditemi che alla vostra destra e alla vostra sinistra avreste capito se non ve l'avessero detto che al vostro fianco ci sono dei parrucchieri c'erano delle teste che facevano schifo va bene schifo facevano schifo allora io dico se un parrucchiere nel 2021 in un periodo come questo ha il mollettone piantato in testa e gli zoccoli perché sono tanto comodi scusatemi ma non potete permettervi di avere dei clienti che arrivano con la Gucci e i sandali di Jimmy Choo ma non è questione di ricchezza testoni non è questione di ricchezza è questione di quanto decidono se scelgono voi di investire quindi la vostra apparenza la vostra autorevolezza vi fanno capire che stanno investendo nel posto giusto con la persona giusta i loro soldi invece se voi deputate tutto a quanto siete bravi con le forbici con le ciotole con quello che vi pare diventa un cinema perché loro non sempre riescono a percepire l'enorme qualità di un lavoro quindi cosa dovete fare? vestirlo bene quel lavoro dovete confezionarlo bene a partire dal vostro biglietto da visita inteso proprio cartaceo perché io ho visto dei biglietti da visita ragazzi che no quello è proprio deve essere perfetto deve essere pulito deve essere nuovo perché no ti do questo poi ti aspetta ti scrivo sul nuovo numero perché l'ho cambiato cioè lì è il disastro ma Romano tu hai costruito un gruppo per monitorare i parrucchieri allora noi siamo andati avanti per mesi mesi a incontrarci tutti i giovedì abbiamo detto quasi tutti i giovedì dovete avere un QR code in vetrina che rimandi ad una landing o comunque sia i vostri spazi sul web vai a vedere quanti lo hanno fatto però poi ci lamentiamo perché c'è crisi non ho abbastanza tempo per cercarne chi l'ha fatto uno non ho abbastanza tempo non ho abbastanza tempo anche perché vedo qua ho visto Gianni esiste veramente chi non fa queste cose che stai dicendo è la base mi fai la cortesia andiamo a prendere il profilo la pagina di Gianni visto che già Gianni ti saluto attenzione perché Gianni Pazzi Air Couture con il nuovo sistema di Facebook te lo banneranno entro 3-4 mesi anche prima ho l'occhio non ce l'hai sull'indirizzo guarda adesso dopo vado a vederla ci sono purtroppo tantissime persone che danno per scontato o peggio ancora pensano di farlo perché io quando ci dico qualcosa ah sì lo faccio adesso nel gruppo è il mese delle video recensioni gli sto cercando di insegnare a fare video recensioni che non le fa nessuno e dico fate video recensioni ragazzi ve lo dico anche voi fate video recensioni c'è uno che dice io sono stato qua mi ha risolto un problema che fino a prima non mi risolveva nessuno perché Lele è davvero il numero uno in questa cosa qua ragazzi andate lì non c'è nessuno che ha una cavolo di video recensioni di una cliente che ci mette la faccia e che dico questa cosa quando c'è qualcosa qualcuno che scrive neanche ve ne accorgete e non gli rispondete adesso salto fuori io gli rispondo quello o quell'altro però e quindi sto facendo il mese delle recensioni no all'interno del gruppo cominciate a fare sti cavolo di video perché le testimonianze no sono lo strumento che vi permette ragazzi di far crollare completamente qualsiasi barriera che c'è contro l'acquisto acquisto di servizio entra nel salone eccetera eccetera ma questo è il concetto anche lì non c'è nessuno che le fa e va bene vediamo stare prima di andare lì vi faccio vedere quello che ho trovato perché oggi scherzavamo con Lele su questa cosa qua non voglio spero che non ci sia la persona che ha messo la foto cercato di oscurare in tutto il mondo non è un attacco al singolo è proprio per farvi ragionare perché sono sicuro che se vado sulla vostra pagina le trovo dissimilari di queste cose qua per fare capire che cosa vuol dire se volete fare marketing di valore dovete dare un'apparenza di valore allora ho fatto questo no c'era questo qua questa persona che ha messo un nuovo menu non entriamo parlo prima perché se no dopo si attaccano al menu non guardate cosa c'è scritto nel menu non mi interessa no qua c'è Lele che vi dice come fare il menu stiamo parlando dell'apparenza il menu quindi a voi anche Lele vi fa il menu numero 8 uno al mondo quindi voi siete lì con il vostro bellissimo menu ok e dovete andare su internet a dire c'è il nuovo menu ok cosa fate no fate la foto la buttate su facebook anche lì per fare questa foto qua cioè dovete ragionare un attimo a cosa la gente vede e a che cosa percepisce vi faccio vedere ecco qua quello di destra è il menu ha fatto la foto ha fatto la foto l'ha scattata e l'ha buttata su facebook se lui avesse preso lo stesso identico foglio e l'avesse messo nella maniera che ho messo qua a sinistra quindi lo mette piatto sul tavolo col telefono gli va con un angolo più o meno di 30 gradi insomma in diagonale ragazzi ci mette su le forbici e il pettine scatta la foto e poi la lista del menu ci scrive nel post che cosa sta facendo ritocco balayage con anche i prezzi e quant'altro cambia la percezione di questa cosa qui secondo voi o no perché se uno mi fa una foto così su facebook e me la mette lì io mi vergogno che quello è il mio parrucchiere cioè dico crediamo che non lo vedano i miei amici perché magari quello vi fa un culo così a tutti da un punto di vista tecnico vi gira intorno quattro volte però la percezione io dico ho questo Lele secondo te che clienti vanno nel salone di destra e che clienti vanno nel salone di sinistra chi è disposto a pagare una cifra per il salone di destra e chi è disposto a pagare la cifra del salone di sinistra cioè questo è l'apparenza delle cose io non ho neanche visto il salone poi magari quel salone lì c'è un cotril in via san marco a bilano ne dico uno di quelle che mi vengono in mente ma ce ne sono tantissimi qua che hanno dei saloni pazzeschi cioè questo è con una cosa del genere come quando arrivavano i circhi tiravano la locandina la attaccavi fuori e poi dopo cominciava a staccarsi lo scotch cioè tutto ha una presentazione se entrate nei saloni di Gucci della Apple di Prada di quant'altro qualsiasi cosa anche il più semplice destino prezzi è messo in una certa maniera e quando fate la foto la foto è fatta in una certa maniera è curata ma non è che ci voglia fare la foto piatta e mandarla fuori e fare una foto di fianco con due forbici ci metti allo stesso tempo non è che ci metti niente lasciate stare il fuoco che probabilmente l'immagine è anche di bassa qualità ma questo è un altro discorso ma tra uno e l'altro io vi assicuro che se mi metto il menu di destra il listino mi stai attaccando le parole sulla parte di sinistra vi assicuro che il risultato sarà diverso e poi scrivete nel post quello che è semplicemente con una felice attivante lo storytelling e ancora e nessuno fa siete lì quindi se avete il grafico che ve l'ha fatto prendete pari pari quello del grafico vettoriale c'è altissima qualità e lo mettete lì e va bene ma se dovete fare una foto attenzione a quello che fate cioè questo è il concetto di apparenza e realtà cosa ne pensi poi faccio delle altre cose ma vedi oggi parlavo con due miei colleghi miei colleghi proprio li conosci molto bene anche se non li nomino perché ovviamente non mi sembra il caso e parlavamo proprio del fatto di vedere quanto si sottovaluti l'importanza di fare al meglio determinate cose l'esempio più classico è ovvio che nel momento in cui uno come me si mette a parlare ovviamente vi dice ok voglio sentire parlare Lele in una diretta va bene voglio fare un corso con Lele e sono soldi che vanno e allora comincia a vedere la battaglia di chi dice ecco questi formatori che guadagnano i soldi sulle spalle non hai capito una minchia i miei clienti guadagnano molto più di me e a me va bene così per una logica di quantità se tu li prendi ovviamente io faccio guadagnare loro io guadagno loro io guadagno ovviamente io ne vedo domenica lunedì martedì ne ho 150 quindi ovviamente sulla logica di scala guadagno poi dobbiamo andare a vedere il marketing le persone che vi mettono a disposizione e tutto quanto ma non stiamo parlando di quello ovviamente se vai a prendere i miei clienti mi sono ok ho visto che si era frizzato se vai a prendere i miei clienti uno a uno guadagnano un sacco i miei allievi guadagnano un sacco quasi tutti non posso dirti tutti che sarei un ipocrita quelli che si impegnano guadagnano botte di soldi però cosa fanno? hanno capito quello che vi ho detto l'esempio più classico il listino ragazzi il listino è un venditore è un venditore straordinario ma se avete un listino mediocre come quello di destra che vi ha mostrato adesso Romano è ovvio che state già perdendo punti perché? perché quel listino abbassa la vostra autorevolezza quando voi vedete un pezzo di carta corretto a mano fatto così è indiscutibile che non vivete più l'esperienza ma che vi fermate a quel foglio quando io ho una trattoria e dico ok vuoi farmi vedere le cose non scrivere a mano detto ad una trattoria fammi un carattere caligrafico ordinato che si legga bene fammi una carta particolare loro fanno quel menu mi hanno detto Lele tu da noi sarai ospiti a vita gli ho fatto cambiare un menu non gli ho fatto cambiare i fuochi della cucina gli ho fatto cambiare un menu un menu cazzo ed erano amici gli ho detto senti mi fate la cortesia fate questo 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 e questo la prima cosa che fai arrivi in quel menu e ti raccontano con quel carattere caligrafico che non dovreste mai usare per i brand ti raccontano la filosofia della loro cucina come hanno cercato di reinterpretare i piatti di nonna non mi ricordo nonna Caterina mentre è bello racconto vi viene già voglia di sapere dove è il ristorante tu arrivi in certi posti i miei clienti ti presentano la carta dei capelli te lo aprono ti fanno vedere bene qui guarda e ti fanno vedere determinati servizi magari hai visto il listino completo ma in mano stiamo parlando di effetti colore ti faccio vedere il menu degli effetti colore e ti racconto una storia e quando dico questo lo dico qui immaginatevi cosa posso dire quando sono un'ora e mezza il martedì mattina a parlare di strategia di pricing è ovvio che si moltiplica perenne volte il valore e si alza però l'input già in sé basta solo che cosa facciamo siccome è gratuito mi guardo un pezzo della partita ascolto cosa dicono Romano e Lele sì cose sì più o meno lo faccio già e invece non è vero e domani non cambi nulla io solo con quello che abbiamo detto in questi primi 40 minuti farei già 4-5 modifiche probabilmente alla relazione col cliente infatti sono diventati i 190 si vede che proprio non diciamo cazzate comunque Gianni Patti mi fa piacere se controlli io sono già andato a vederlo non so se ti conviene che lo guardo no ma innanzitutto no tra l'altro non è male però ci sono delle cose mentre lo proponi perché ci tengo a fare questo io voglio mandare un messaggio perché voglio dirti una cosa Romano due settimane fa tre settimane fa Marco Scarabilli di Meravista è stato tuo ospite ed è stato bello adesso sta facendo su pagina parrucchieri lunedì martedì mercoledì ha fatto un esperimento che è andato molto bene lo replicheremo ancora un lunedì martedì mercoledì poi basta in cui è andato a far vedere a commentare in diretta le vetrine e l'immagine esterna dei saloni bella idea lo faccio anche io sui posti molto bello sono molto contento perché veramente oltretutto arriva ogni tanto mi fa vedere delle cose che io non avevo notato ma perché ti ho detto questo messaggio perché sta cambiando Romano e lì devi prenderti i tuoi meriti come io mi prendo la porzione dei miei sta cambiando la mentalità infatti faccio un applauso a Gianni e non ho ancora visto il profilo poi magari gli dico che quello non mi piace che quello non va e lui fa quello che vuole però è bellissimo il commento che ha fatto Gianni adesso perché il parrucchiere molti non tutti ma molti stanno scoprendo il piacere di prendere anche tra virgolette la critica perché né te né io bravo né te né io siamo qui a rompere le balle alla gente cioè io costo 2000 euro l'ora e lo so che vi sembrano tanti ma sono un cazzo rispetto a quello che serve e chi li paga chi può pagarli e guadagna dieci volte quella cifra perché se no col cavolo che me li darebbe nei denti me li darebbe ok quindi siamo qui per aiutarvi e delle volte purtroppo cosa succede faccio un esempio e voglio vedere il profilo l'esempio di una che fa vedere la vetrina e gli abbiamo fatto vedere cinque errori ma marchiani proprio enormi che lei non aveva visto e lei si è arrabbiata per contro è fermalosa sì anche lì sulla fermalosità bisogna fare il corso che bella vetrina cinque clamorosi errori ma errori che le costano che se lei li cambia se lei li cambia immediatamente aumenta il numero di clienti nuovi in entrata Romano te lo metto per iscritto e te lo firmo bene l'altra invece ieri Raffaele gli ha detto ovviamente quel tipo di aiuola fatta così se mai mi ricorda più un'area cimiteriale e lei ha risposto con un commento grazie perché sono qui per imparare io avrei voluto abbracciarla perché è un commento fatto con garbo ma per farti capire qual è la prima cosa che mi viene in mente e lei invece di arrabbiarsi ha detto cavolo lo prendo questo input perché mi serve è questo l'atteggiamento che dovete avere bravi dovete succhiare rubare tutto quello che potete rubare non copiare rubare perché vuol dire lo prendete e ve lo fate vostro perché se lo copiate è quello di qualcun altro per quello che mi arrabbio quando mi copiano i post se invece li rubate che li prendete li mettete la vostra grafica la scrivete in un altro modo siete i numeri 1 allora Gianni sto arrivando da te no? perfetto non parti male Gianni è lui che mi autorizza quindi autorizza e io ti do il mio punto di vista davanti ai 200 che siamo qua vai tu in questo momento aspetta che qua c'è la mia seconda eccoci qua eccoci qua allora poi non parti male immagino che sia femminile basta Gianni mi confermi che è femminile basta? allora logo ok immagine così no sul logo c'è già qualcosa da dire no no dico logo io parlo tecnicamente cioè posizionato nell'immagine profilo c'è il logo come dovrebbe essere qua già andiamo male no? perché a zecca le ciocche a zecca le ciocche ciocche applicate qua hai preso tre concetti intanto mancano l'introduzione perché non ci scrivi niente sopra no? cioè che problema stai dicendo che ha questa persona come l'hai risolto perché dovrebbero scegliere te invece di un altro non c'è scritta la parte sopra c'è nella parte più basso no? trova le differenze di fida da chi si spaccia professionista a basso corso questi sono i risultati tu non stai parlando ai parrucchieri stai parlando a una donna che non ha minimamente idea di cosa stai dicendo né di che risultato gli stai propinando quindi questo è il primo problema poi vado sotto poi dopo le le vabbè selezioniamo personale ecco si dopo torniamo su io vado veloce perché non c'ho voglia di fare l'analisi poi qua abbiamo chi è che è questo geni gnocchi no? se lo dice geni gnocchi puoi fidarti di te vediamo non lo so poi andiamo sotto Philip Martin sono arrivato il 9 aprile non ho ancora trovato una ragione perché devo entrare nel tuo salone no? poi abbiamo tratta bene i capelli a casa nuova serie tv cosa faccio? devo cliccare su whatsapp e che cosa ti dico? non c'è una colture action insieme all'immagine cosa devo fare? ok mi hai dato un'emozione per qualcosa poi abbiamo la foto new cut in collo per la nostra Rina cosa voleva Rina? perché ha scelto te? perché è entrata nel tuo salone? dov'è la storia? dov'è questa cosa qua? poi abbiamo le foto vanno anche bene nel senso ricostruzione di un taglio bastano 20 ciocchi 10 minuti per realizzare un sogno anche qua io non so Marianna voleva questa cosa qua ha sempre trovato un parrucchiere che ci metteva 4 ore e io con 20 ciocchi 10 minuti io ho trasformato la vita e io ho risolto il problema ho inventato belle foto poi qua questa fa parte di del tuo profilo Instagram probabilmente la foto da dietro ok qua se poi se proprio devo andarti da un punto di vista fotografico ti manca la luce che illuminano i capelli perché la luce viene dal davanti ti manca oppure devi averne di più però soprattutto nella parte alta ecco però quello che vedo il maggior problema che hai è che manca sempre il testo nelle tue foto nella parte sopra cioè c'è scritto 25 febbraio è accettabile per Instagram non sicuramente per Facebook esatto infatti queste foto arrivano da Instagram Lele lui prende Instagram e mette su Instagram e ha un pubblico e schiaccia il pulsante perché è veloce e va in automatico su Facebook solo che Facebook è un pubblico e Instagram è un altro con Instagram puoi fare delle cose con Facebook ne puoi fare delle altre perché non sfrutti la potenzialità massima di Facebook e fai questa roba allora dovrai andare sul tuo profilo Instagram e parliamo del tuo profilo Instagram però se vado a parlare del profilo Facebook questo con un testo questo con un testo giusto gli porta un cliente nuovo al giorno sì esatto ma intanto non sono neanche sponsorizzati Lele perché vedo due like non è questione dei due like cioè si capisce che il post non è sponsorizzato anche qua prima e dopo ok carino e tutto il resto su Insta dovrebbe spaccare perché comunque le immagini ci sono quindi è auspicabile che Gianni da Instagram porti a casa parecchi aspetta mi dice vai su Gianni Pazzi al Couture io sono su Gianni ah questo è Gianni Pazzi al Couture e manca il testo o lo condivido dal profilo se vai su mi fai vedere anche il sito perché poi volevo vedere anche quello comunque sì è la prima cosa che se vai su all'inizio così almeno vedo il sito eccolo lì eccolo lì fermo questo qua Gianni Pazzi tutto ecco perché non lo trovavo io avevo messo il punto it ok perché vado ad aprirlo punto com il punto it dovresti metterlo visto che immagino che sia tuo Gianni perché è riservato mettilo comunque in redirect perché devi tenere presente che il punto com e il punto it devono essere sempre impegnati cioè voi dovete prenderli sempre e farli vostri però devi andare in redirect andare in redirect perché fare o fai una landing specifica per fare una cosa oppure vai in redirect allora tieni conto che io non vado mai a commentare qualcosa quando non so se il mio interlocutore abbia una filosofia ben chiara quello che voglio farti vedere se per favore Romano mi torni sulla pagina infatti lui dice che usa poco la pagina ragazzi scusate mi hai chiesto no no ma va bene scusatemi un attimo prima che ti dica due cose sul testo voi questa cosa qua dovete pensare che è una bestemmia orlata in chiesa allora Gianni che sei un fuoriclasse si vede non parlo dei lavori io parlo della comunicazione quindi si vede se tu mi dici da 1 a 10 quanto valuti me come fuoriclasse per come mi propongo 10 quanto valuti il modo in cui mi propongo 5 non te la do la sufficienza perché tu meriti molto più di quello che io sto vedendo ti faccio un esempio quando è che diventi l'artista quando è che diventi lo specialista quando è che diventi il fuori serie quando riesci a combinare le immagini con i testi nel 2021 ne parlavo di recente con il re del del content marketing in Italia con Alessio Beltrani bene ragazzi non c'è modo che non si facciano dei testi ma ormai se state a vedere stanno usandoli anche su Insta in un certo modo ovviamente con misure completamente diverse perché Romano prima vi ha detto una cosa attenzione voi dovete pensare a due variabili cari allievi avanzati fra due settimane io vi ammazzo su questo preparateli pure perché vi faccio neri mi adorerete peccato che ci sia lo streaming se no ci saremmo abbravacciati tutti quanti però il messaggio primo noi dobbiamo pensare a quello che stiamo facendo vivere al cliente come esperienza e a come comunicargliela quindi attraverso i testi e l'altro ma dobbiamo pensare che i clienti sono diversi e che i social sono diversi attenzione se l'ha detto Romano perfettamente prima se io sono su Instagram comunico in un modo se io sono su Facebook comunico in un altro se sono in una landing comunico in un altro ma c'è una cosa che alcuni di voi stanno sottovalutando perché 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 è difficile e mi rendo conto non difficile è rettifico è impegnativo ad ogni cliente il suo messaggio ad ogni messaggio il suo cliente Gianni Pazzi non ha i non clienti cioè quelli che non vengono da lui ma i non clienti si spezzettano per noi in quattro categorie ma non me la sto a menare si spezzettano quindi tu devi pensare che c'è qualcuno che sa chi è Gianni Pazzi ma non va da lui c'è qualcuno che non sa chi è Gianni Pazzi c'è qualcuno che non sa qual è la specialità la cosa che fa meglio di tutti Gianni Pazzi con il suo personal brand quindi tu devi pensare che devi ragionare ad ogni messaggio cercando di centrare di calibrare un pubblico specifico non c'è più chi Lele dammi una tecnica perché voglio conquistare nuovi clienti di che tipo cosa intendi Lele scusa è i clienti che non vengono da me di che tipo questa domanda che vi sembra stupida è la domanda più importante che vi potete portare a nanna questa sera attenzione mi fai vedere la pagina e poi io chiudo la pagina Facebook la pagina Facebook aspetta aspetta perché voglio dare tre input ma la pagina Facebook hai più o meno lo stesso problema adesso poi ti dico anche due cose no no quello che mi hai fatto vedere poco fa no questa qua questa qua la pagina Facebook no questo è il profilo che dice che era meglio no no fammi vedere la pagina perché questo qua è il suo profilo innanzitutto mai avere il nome uguale pagina e profilo mai ma tra l'altro sul profilo non puoi sponsorizzare non so capisco perché lo devi fare vabbè lascia stare no deve farlo no lo deve fare ma ok non in questo modo nel profilo Gianni Pazzi deve comunicare da lui a tanti no questa è la stessa Gianni Pazzi deve raccontare no no deve raccontare quello che lui fa ok attenzione Gianni attenzione dov'è che diventi un fuoriclasse vuoi il meglio per te e i tuoi capelli siamo la tua risposta primo lascia perdere la grammatica perché della grammatica non mi importa un fico secco non siamo un corso di italiano io ti parlo da copywriter professionista ok bene se tu mi di vai un po' giù guarda giù c'è il peggio però bravo 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 no no tanto io in tre minuti infido questo poi andiamo a vedere gli ultimi commenti e ci salutiamo allora vuoi il meglio no dovrebbe essere chiedi il meglio per te e per i tuoi capelli siamo la tua risposta perché la risposta è a una domanda quindi è chiedi non è vuoi però è già sbagliato perché purtroppo questo messaggio non ti distingue cioè qualunque parrucchiere potrebbe prendere da te copiare incollare mettere sulla sua pagina vuoi il meglio per te il puto e capire siamo la tua risposta quindi primo problema appari uguale agli altri quindi appiattisci la tua comunicazione non la differenzi vai sotto qualità dei prodotti la qualità è soggettiva la qualità non si può valutare quindi l'ultima delle cose di cui devi parlare è qualità devi esprimere il termine qualità a parole tue massima igiene all'interno del salone professionalità del nostro staff qualità convenienza portesia professionalità sono le quattro parole più gettonate che dovete togliere perché il cliente le usa cioè il cliente quando parla di te pensa alla professionalità ma tu devi chiederti e ovviamente i parrucchieri glielo insegno il lunedì tu devi chiederti che cosa significhi per il cliente professionalità perché sono quelle le parole che gli devi dire quelle che lui usa non sono quelle che ti interessano sono quelle che processano il suo cervello se io ti dico Red Bull tu mi dici Energy Drink quindi tu devi pensare non alle parole che leggi ma alle parole che susciti all'emozione che generi ultima cosa sono queste le nostre armi vincenti armi è negativo è una negatività richiama la guerra richiama qualcosa che non va bene quindi come vedi cambiare i testi ti porta ad un livello di autorevolezza molto più alto accompagnare i video le immagini anche dei prima e dopo alla storia della cliente ti fa fare l'ultimo salto e tu mi dirai Benedetta quella serata che ha ascoltato Lele e siamo gratis in ospiti di Parrucchierando ok allora vi voglio dare un regalo anch'io dopo tutti quelli che hai dato Lele ragazzi carta e penna pronti perché dopo se vi girano le balle tolgo anche la diretta carta e penna vi dico come dovete fare un post quattro cose come dovete fare un post questo qua è quello che facciamo quando facciamo anche i corsi con Buon Ivan o con altra gente per pubblicizzare per promuovere i vostri lavori ok siete pronti pronti a scrivere allora abc di un post mai parlare del prodotto mai parlate del problema argomenti di che cosa si preoccupano i miei clienti di che cosa senti lamentarti di continuo i clienti parti da qua immagina di mettere solo il tuo titolo e il tuo numero di telefono in un trafiletto di un banner pubblicitario di un qualsiasi giornale la gente ti chiamerebbe se la risposta è no ripensalo e poi rifallo parla di una caratteristica un beneficio un risultato fine della lezione del post del corso di 6 maggio per fare i post fine del discorso quindi se ve lo siete iscritto spero che domani partite da qua e non voglio vedere più post morti ok lavoro più con Instagram e mi ha fatto notare cose sulla pagina che avevo dimenticato di avere un fatto e ti ringrazio se decidi di lavorare di più con Instagram non è che quella roba la devi fare alla cavolo se tu decidi di tenere la piega in salone e fai anche il balayage e poi dici ok però io la piega non la faccio non mi interessa più di tanto oppure la vorrei quasi togliere ci sta ma se quella piega la fai la devi fare la regola d'arte non è che la devi fare alla cavolo per usare una metafora è la stessa cosa e qua vuoi andare su Instagram perfetto spegni Facebook metti un post uno al mese fatto come ne metti uno invece che metterne uno ogni giorno o condividere così tanto butto lì piuttosto che mei piuttosto no in questo caso no non funziona così quindi concentrati su uno ti specialiti su Instagram vai lì tutti i soldi su Instagram vai lì perfetto la tua clientela cerca di metterlo al massimo questa cosa qua questo è fondamentale allora abbiamo ancora 4 minuti bene 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 insomma guarda sono contento perché perché sta cambiando lo spirito e sono contento io quando vedo certi gruppi sono uscito da tutti per la disperazione ho detto basta un giorno dopo un commento incredibile ho detto non ne voglio più sapere e invece vedere vedere questa sera che invece di farsi di fare polemiche invece di essere permalosi invece di essere sempre distruttivi si cerca di essere qui 200 e passa persone che vogliono crescere insieme che fanno domande che fanno riflessioni che capiscono che chi hanno davanti ne sa pacchi e di loro gli importa veramente è una conquista perché io in testa nel mio piccolo non sono un signor nessuno che vuole evolvere una categoria che è quella dell'Air and Beauty e soprattutto quella dei parrucchieri che sono quelli che mi hanno cambiato la vita però il bello è proprio vedere che stiamo rendendoci conto a differenza di chi generalizza su tutto quindi i parrucchieri i formatori sono tutti uguali ma vatti a nascondere perché non è proprio vero e dicono tutte le stesse cose non è vero proprio non è vero io sono all'anticristo di altri formatori o viceversa però è chiaro che in questo momento quello che si sta capendo è che non si può più scherzare che bisogna fare le cose fatte bene perché non si può più sbagliare io in parrucchiere imprenditore non sto a menarvela che è una serie di video training e audio training che ho fatto la prima cosa che ho insegnato non è a fare le cose giuste ma è a smettere di fare le cose sbagliate smettere di fare le cose sbagliate per il 50% dei parrucchieri in Italia tenete presente che un terzo chiuderà entro uno barra massimo 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 due anni ma è già tanta roba chiuderanno poi o si rinventeranno apriranno in società o faranno altre cose ma dovete pensare che fra il 25 e il 30% dei saloni oggi vive perché c'è il nero se non ci fosse il nero non sarebbe in piedi quindi con le nuove regole che arriveranno questa è l'unica fine che faranno e questo ovviamente va a riconvertire un modo di fare il vostro mestiere in cui si sarà sicuramente decisamente più appagante anche per voi che lo fate bene ecco questa base questa voglia di imparare è impagabile tenetela sempre con voi perché vi porterà lontano ecco intanto che tu parlavi ho trovato un post che ho messo qualche mese fa in perugando a proposito di storytelling ragazzi ve lo rimetto qua al volo mi auto oscuro non c'entra niente con il vostro è un braccialetto di una vetrina di Milano guardate c'è questo braccialetto e poi c'è questa questa lettera diciamola così a parte il prezzo messo così che non è il massimo però durante la seconda guerra mondiale i paracodottisti della centunesima divisione avio trasportata a USA avevano ideato un proprio portafortuna che sarcasticamente portavano al polso ogni qualvolta dovevano scampare la contraerea nemica durante i trasferimenti al punto del lancio dalle funi di vincolo del precodotto e fuori uso tagliavano le fattucce insomma c'è questa cosa qua e poi alla fine ti dice proprio con le funi del vincolo e uso naturalmente con una chiusura moderna e clip oggi puoi avere anche tu questo braccialetto se non c'è questa cosa qua e c'è soltanto il laccio giallo ma chi è che lo compra no la stessa cosa la stessa metafora la dovreste fare con i vostri post tra l'altro questa è un'altra cosa ieri martedì con Tommaso è venuto fuori un altro argomento che mentre parlavamo è che cosa fate voi nel momento in cui avete risolto il problema alla cliente fino alla volta successiva perché nel momento che voi avete risolto il problema alla cliente quindi gli avete fatto il massimo il top lei non è mai stata così bella dal secondo successivo lei comincerà a riavere il suo problema cioè non immediatamente perché cosa vuol dire che i capelli cominciano ad abbassarsi il colore comincia a sbiadire i bianchi ricominciano a crescere da quella volta lì alla volta successiva che entra in salone voi gli avete creato un problema perché adesso è così gnocca così bella così top e comincia a perdere quella cosa lì quindi gli avete creato un problema un'ansia cosa fate? mandate messaggino? vogliamo dire che basta il messaggino? dai ci parrucchiere proprio questo perché se no non voglio andare avanti ma è bello è bello sono contento lo spirito è quello giusto mi piace moltissimo vedere le persone così hai fatto un esempio straordinario io credo che sia talmente talmente forte ricordarvi insieme a questo esempio il valore dell'autorevolezza e ricordarvi che è la prova del 9 come facevamo a scuola quando non ci lasciavano lavorare con la calcolatrice la prova del 9 ci diceva se la moltiplicazione era giusta oppure sbagliata era un caso che si sbagliasse anche la prova questa la prova del 9 si chiama autorevolezza voi dovete sempre ogni cosa che fate ma ragazzi guardate domani mattina arrivate vi fermate davanti al salone guardate alza o abbassa la mia autorevolezza provate ad aprire la porta si apre comodamente perfetto perfetto entriamo dentro sguardo visione di insieme al salone alza o abbassa la mia autorevolezza mi giro verso la cassa alza o abbassa la mia autorevolezza vado in bagno alza o abbassa la mia autorevolezza gli specchi le immagini che si vedono riflesse negli specchi mi siedo come diceva Marco Scaravilli l'altra volta Marco Mera Vista l'altra volta mi siedo ad ogni postazione guardo cosa si vede negli specchi alza o abbassa la mia autorevolezza le spazzole gli accessori che uso alza o abbassa la mia autorevolezza vado a vedermi la pagina web alza così tutto la musica che si sente i prodotti che ho e come li ho esposti il listino tutto ragazzi fate una prova di autorevolezza e io vi garantisco che questa serata la userete alla grande ti ricordi che abbiamo detto prendete la macchina fotografica scattate le foto e guardatele perché le foto sono impietose guarda che questa cosa qua che hai detto è bellissima perché se le guardate viene un disastro perché voi guardate la casa dicendo non è male fai una foto la guardi dici cazzo c'è la polvere c'è il cavo c'è quello quell'altro la prossima volta vorrei parlare dei problemi che create le clienti come quello che vi ho detto cioè che le avete fatte diventare belle ma che create ancora prima perché vogliono venire da voi e voi gli create un problema perché non c'è il parcheggio perché avete parcheggiato la macchina voi nel posto che dovrebbe darlo alla cliente perché non rispondono al telefono perché è la punta i problemi che creano alle clienti che non c'entrano con quelli che risolvono ma i problemi che create e molti clienti rinunciano a venire da voi perché non c'è parcheggio non risponde al telefono è sempre incasinato c'è un cattivo odore non lo so altre cose ecco parleremo di quello e ne vengono fuori delle belle fantastico Romano buona serata ragazzi fate i bravi mi raccomando io anche in bagno alzo la mia trevolezza e con questa perla se lo chiamo perfetto benissimo possiamo chiudere alla perfezione con questo ciao a tutti ragazzi buona serata ci vediamo fra un mese il 4 5 il 6 aspetta il 4 no 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 il 3 di giugno 3 di giugno 3 di giugno perfetto ciao a tutti ragazzi buona serata ciao